Astropop è il titolo che l'artista Giancarlo Montuschi ha dato alla sua recentissima produzione pittorica ispirata a un certo cinema americano in cui si incrociano elementi fantastici degli anni 30 e 40 e immagini che si rifanno alla vita quotidiana contemporanea negli Stati Uniti. Sono queste le opere che il pittore e ceramista Faentino, trapiantato in Valtiberina ormai da decenni, propone nella sua personale che ha aperto i battenti alla Sansepolcro Art Gallery. La linea che unisce questi quadri sono particolari che vengono da cose che ho visto, che ho letto, che ho vissuto e quindi è un compendio di tutto quello che mi è passato nella testa, nella visione, attraverso uno stile che è sempre quello, quello pop, di derivazione pop, anche se ci sono dei distinguo. La pop art va dal 58 al 78. Io nel 71 ho cominciato a lavorare nella pittura. Quindi per me era l'innovazione, come per tutti noi, vedevamo questo nuovo tipo di pittura che veniva dall'Inghilterra e ci siamo appassionati, quindi in quel periodo là facevo altre cose, facevo dei fumetti. Diciamo che il mio pop era più inglese, quindi guardava anche quello che era il paesaggio, le cose. Uno spazio, un'iniziativa culturale fondata nel settembre scorso nella città di Piero della Francesca da Marcello Medici e Stefano Vannini. La nostra filosofia è quella di girare la mostra ogni due o tre settimane e questo turno è quello di Giancarlo Montuschi, autore che ormai quasi tutti conoscono in vallata perché è da tanti anni residente qui, colore, riferimento ai fumetti, fantasia sfrenata.